L'appuntamento con il Black Friday cade a quattro settimane dal Natale ed in prossimità del pagamento di stipendi e pensioni e si prevede che quest'anno ad approfittare degli sconti saranno il 41% delle famiglie. Numeri dovuti anche al fatto che in risposta all'inflazione, secondo l'analisi di Boston Consulting Group sulle previsioni di acquisto dei consumatori, è stato rilevato che molti stanno cambiando le proprie abitudini di acquisto. Più del 50% ha dichiarato di aver ridotto gli acquisti non essenziali negli ultimi tre mesi, il 49% controlla e confronta i prezzi più frequentemente e il 41% compra di più in base a offerte e promozioni. Per il Black Friday 2023 la spesa per famiglia dovrebbe attestarsi mediamente sui 150 euro. Le proiezioni di Feder Consumatori Palermo prevedono un giro d'affari tra acquisti online, negozi e centri commerciali di 21,6 milioni di euro per il capologo siciliano e di 41 milioni di euro per l'intera provincia. Lo sostiene Lillo Vizzini di Feder Consumatori Palermo. Gli acquisti si concentreranno in tre grandi macro-categorie, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli di elettronica come smart TV, smartphone e tablet, abbigliamento e prodotti per la casa. Negli ultimi sei anni le vendite scontate nel Black Friday sono aumentate, dice Pino Lobello, presidente Feder Consumatori Palermo. Dopo la buffata, a dicembre i consumatori acquisteranno soltanto lo stretto indispensabile, aspetteranno l'inizio dei saldi invernali con l'arrivo del 2024.